Interrogatorio di garanzia nell'ambito dell'udienza di convalida, sarà sentita all'ospedale San Bortolo di Vicenza Federica, la donna di 42 anni che domenica sera, in questa villetta di Lisiera di Bolzano Vicentino, ha gettato a terra due volte Alice, quattro giorni appena, togliendole la vita. Un precario equilibrio quello che sta vivendo la donna, sottoposta a sedazione costante da parte dei medici che l'hanno in cura nel reparto di psichiatria. A suo fianco i familiari, il marito che in quei concitati momenti ha dapprima soccorso la bambina e poi salvato la vita alla moglie che stava per togliersi la vita con un coltello, ma anche i genitori di entrambi. Un dolore infinito quello che stanno vivendo, Federica in un letto di ospedale, piantonata dai carabinieri in stato di arresto con l'accuso di omicidio volontario e il marito che da giorni più emozionanti della vita è piombato in un dramma, per ora senza fine. Fondamentale la giornata di giovedì. Dopo l'interrogatorio sarà il giudice dover decidere le sorti della donna. In stato di arresto dall'ospedale San Bortolo potrebbe essere trasferita in carcere, ma nessuna struttura in Veneto, nemmeno il carcere di Montorio, ha un centro attrezzato ad accogliere persone con problemi psichici. L'unico carcere è quello di opera a Milano, troppo lontano dalla famiglia, ritiene Elisabetta Cardello, il difensore della donna. Intanto in mattinata la procura di Vicenza ha affidato l'incarico per l'autopsia sul corpicino della piccola Alice. Tra 60 giorni tutti i risultati saranno depositati, solo eseguiti tutti gli accertamenti necessari si potranno fissare i funerali.